Grande emozione stamani durante l'incontro in piattaforma dei 24 baby consiglieri nisseni. Hanno avuto la prima opportunità di scambio delle loro idee guidati dagli insegnanti, dai referenti delle scuole, dei tutor e delle associazioni di supporto. Dei 24 sono 17 i candidati a sindaco, 7 dei quali sono ragazze, tutti in lizza per la fascia da primo cittadino. Ordinatamente si sono presentati ed hanno condiviso i loro programmi. Nel complesso le proposte hanno in comune una visione più ecologica del futuro della città. Molte le proposte che pensano in verde, alla sostenibilità e al verde pubblico, che è stata una costante, come il poter potenziare aree attrezzate anche per fare sport. Le desidererebbero maggiormente curate, vorrebbero una città più pulita, per questo alcuni di loro hanno proposto di ideare delle campagne di sensibilizzazione. Nei programmi c'è anche una più attenta cura alle bellezze storiche cittadine che vorrebbero conoscere e far conoscere di più anche i turisti. Vorrebbero una città più a dimensione di bambino. Passeggiate o mini-tour per scoprire la storia e personaggi nisseni, ma anche più cura per marciapiedi, strade e più cestini per la differenziata e maggiore illuminazione. Nei programmi richiestissima la piscina comunale. Pensano anche ad eventi sportivi all'aperto, nelle strutture sportive della città, che vedono come luoghi ideali per socializzare e crescere insieme con valori sani. Tante idee anche per accogliere fondi per pensare ai più poveri o a ristrutturare palazzi della città del centro storico. C'è chi ha proposto eventi musicali fatti da e per studenti, ma anche laboratori di arte, lingua e artigianato, i cui elaborati poi potrebbero essere messi, sempre in base ai progetti, in vendita per i mercatini e i fondi destinati a iniziative benefiche. Vorrebbero il potenziamento della rete internet più fruibile per tutti, soprattutto nelle scuole, che sognano con più palestre e più prospetti curati. Vorrebbero anche negli esterni panchine colorate, dove magari poter effettuare lezioni all'aperto. Questo è tanto altro nei programmi dei baby sindaco, che il prossimo 10 febbraio si incontreranno in presenza a Palazzo del Carmine per la prima volta e per eleggere il baby sindaco e la baby giunta, che prevederà quattro assessori, uno per ciascun istituto comprensivo.